La nostra sorella che viene a nome della madre a visitare la nostra ispettoria, benvenuto gliel'abbiamo dato giovedì sera con la comunità di case ispettoriale, ma stasera gliel'abbiamo in una maniera più alta perché ci sono le rappresentanti di tutte le nostre case, sono presenti le nostre comunità e poi la cosa bella, non pensata tanto ma è capitata e ciò che capita senza essere pensato ancora più bello, avere con noi il gruppo dei giovani del camionio che stanno facendo un ambiente di scegliamento, allora siamo contenti, non vi è assoluta di salutarti a nome di tutte le nostre comunità e di tutti i giovani delle nostre realtà, quelli che sono più insolubili, insieme preghiamo e ancora facciamo grazie, sappiamo che tu ci rappresenti la madre ma ci rappresenti Maria, siamo contenti di condividere con te un pezzo in te piena di grazia, si compie il mistero, in te regine pura, il tempo eterno si è fatto in te da né? ai cittadina al vivibile al vivibile la madre ma ci rappresenti nò che上niamo Grazie a tutti. 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 Grazie. 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 Grazie a tutti.